Adesso andiamo a Lampedusa dove è arrivata la prima delle due navi per il trasferimento di oltre mille migranti in diretta. C'è la nostra inviata Angela Caponnetto. Angela, torniamo da te. Sì, buon pomeriggio. La nave la vedete alle mie spalle. Era un rapsodi delle grandi navi veloci. Si trova in rada protetta da questo forte vento di maestrale. Aveva tentato di avvicinarsi a Calapisana dove dovevano essere trasferiti 800 dei 1300 migranti che si trovano ancora sull'isola. Purtroppo le condizioni meteomarine non consentono in questo momento l'attracco in porto. Tra l'altro una nave così grande non può entrare. L'unico punto potrebbe essere appunto soltanto quello di Calapisana. Dunque bisognerà aspettare che le condizioni si avvino verso condizioni favorevoli. Ma sembra che fino a lunedì, almeno questo ha detto la Capitaneria di Porto, il vento non dovrebbe calare. Intanto sia in hotspot che nelle altre strutture, nell'altra struttura parrocchiale in cui si trovano i 1300 migranti, sono tutti appunto in attesa anche di sapere che cosa accadrà nelle prossime ore. Che arriverà comunque la seconda nave, che è la nave adriatico della SNAV, che caricherà anche gli altri migranti, quando appunto le condizioni meteo lo consentiranno. Intanto in Sicilia ci sono altre tre navi che in questo momento sono state messe appunto in carico dalla Viminale. Sono l'Azzurra, l'Allegra, l'Aurelia. Si trovano a Palermo, a Trapani e ad Agrigento con altre circa mille persone a bordo. E a bordo c'è anche il personale sanitario della Croce Rossa, che si occupa appunto di controllare tutte le norme sicuritarie anti-Covid su queste navi. Per il momento da qui è tutto. A voi la linea.